Si chiama Napoli Movie Tour, l'app ideata dall'assessorato alla cultura e turismo e realizzata dall'ufficio cinema del comune per creare itinerari turistici personalizzati legati ai set dei film girati a Napoli. Chiunque ami il cinema o voglia andare semplicemente alla ricerca di angoli meno noti della città può farsi guidare dall'applicazione che permette attraverso una selezione per film location di costruire percorsi sulla base dei propri interessi. Ogni location che è stata a set di un film comprende una breve descrizione della trama, una mini galleria fotografica e contenuti video che permettono di rivedere le scene esattamente nel luogo in cui sono state girate. In uno strumento attraverso il quale è possibile con il proprio smartphone essere agganciati dai luoghi nei quali sono stati realizzati film particolarmente significativi per la storia e per la memoria di Napoli. Attraverso questi è possibile poi andare a ricostruire i luoghi, i trailer, gli ispezioni dei film e costruirsi anche dei propri percorsi personali della memoria attraverso luoghi che magari hanno costituito posti di suggestione particolare per il turista. L'applicazione scaricabile dagli store ufficiali di smartphone e tablet oltre che dal sito del comune è fornita da Telecom Italia e dedicata al maestro napoletano di cinema Francesco Rosi. Il cineturismo come oggi si dice sia una delle leve fondamentali per richiamare i flussi turistici. Si calcola che addirittura sia 80 miliardi il giro di movimento turistico e economico intorno appunto al cinema. Siccome Napoli credo che sia una delle location più straordinarie dove sono stati girati tanti meravigliosi film che nella storia del cinema è un posto primario. Le nuove tecnologie in qualche modo si mettono al servizio del patrimonio storico e artistico della città. Quindi è una modalità per conoscere e per far sì che anche i turisti diventino attraverso gli strumenti delle applicazioni che vanno sulla larga banda gli ambasciatori del proprio tempo anche al di fuori della città. Con Napoli Movie Tour è stato presentato anche il nuovo ufficio cinema del comune istituito tre mesi fa per facilitare il lavoro degli operatori dell'audiovisivo. Ad oggi ha già fornito supporto a 20 produzioni, semplificando l'iter burocratico per l'accesso ai siti e per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.